Questo pomeriggio Pietro Rarazzani, titolare di Varare, ci racconterà come l'azienda è arrivata a applicare il sistema DOC per risolvere concretamente una soluzione o varie soluzioni di docce a filo palminuto. Il mercato negli ultimi anni si è sempre più orientato su soluzioni personalizzate. La soluzione personalizzata nella zona doccia si è concretizzata con la doccia a filo palminuto, perché la doccia a filo pavimento non dà vincoli estetici, tecnici e dimensionali di forme e dimensioni. Per fare la doccia a filo pavimento le aziende, la loro risposta è stata quella di prodotti dove c'è una forte componente di mano d'opera che deve essere realizzata in opera in cantiere. Chiaramente questo comporta un forte rischio nel risultato che si può ottenere. Fatto questo, una volta creato appunto il filo pavimento, la chiusura, la delimitazione di questa doccia a filo pavimento viene realizzata interpellando altre aziende le quali poi forniscono dei prodotti che vengono appoggiati insincorati appunto sugli rivestimenti. La nostra idea invece è stata quella di fornire un prodotto prefabbricato ma customizzato sull'esigenza del cliente. Nasce quindi ad hoc che si concreta in un bacino in acciaio realizzato su misura con la pendenza già di fabbrica, la corretta pendenza e la piletta integrata. Questo perché puntiamo a dare una soluzione che si posa totalmente a secco senza uso di massetto né silicone, in quanto la camminadoccia viene alloggiata all'interno del bacino in appositi canali che sono già drenati verso lo scarco, quindi qualsiasi acqua viene sempre riportata al pozzetto. Il vantaggio è che noi possiamo realizzare questo prodotto su misura al centimetro arrivando ad una dimensione di tre metri per un metro e mezzo in qualunque forma. Questo è un po' il video. Il nostro referente principale, quindi l'architetto, che invece che avere più persone, più artigiani con cui confrontarsi ha un unico referente, l'azienda, la quale risponde su tutte le sue esigenze. Andrea, oggi abbiamo avuto un incontro con un professionista e un istitore proprio sul vostro prodotto. Hai avuto delle richieste particolari al di fuori delle vostre proposte di risposta? Sì, ci sono stati tanti casi, in particolare uno che mi è rimasto particolarmente in evidenza. Un professionista, un architetto che ha dovuto adattare il progetto che stava realizzando a un prodotto commercializzato. Quindi, diciamo, ha dovuto diminuire la zona doccia per non avere delle incongruenze estetiche con il prodotto scelto. In questo caso, invece, con la soluzione virare è il prodotto che si adatta al progetto dell'architetto. Quindi, offrendo, come diceva Pietro, una soluzione alla progettualità del professionista. Bene, grazie. Al prossimo. Grazie, buongiorno. Grazie. Grazie.